E' stato testimone con i suoi scatti delle pagine più tremende della seconda guerra mondiale, con i suoi reportage dal fronte del sud pacifico. Davis Douglas Duncan, fotografo americano classe 1916, è una delle icone mondiali del fotogiornalismo, primo fotografo a disporre a Whitney Museum of Visual Art di New York nel 71 e vincitore della prestigiosa medaglia d'oro Robert Capa nel 67. Fu proprio Capa, dieci anni prima, a consigliargli di andare a conoscere Pablo Picasso, di cui poi Duncan divenne amico intimo e fotografo personale. Nel settembre dello scorso anno, 50 stampe negativi dell'immensa collezione dedicata al pittore sono stati donati dallo stesso Duncan al comune di Camaiore, dove ha vissuto fino alla morte la prima moglie Leila e dove il fotografo è stato molte volte affascinato dall'arte dei tappeti di segatura. Deci scatti di questo immenso patrimonio sono esposti presso la Fondazione Banca del Monte dal 1 al 3 maggio e sono solo una preview della mostra dal titolo di Isis Picasso, che inaugurerà sabato 30 maggio a Villa Ariston di Camaiore e a cui presenzierà l'autore. Duncan non è un fotografo, Duncan è una leggenda del mondo della fotografia e questo rapporto con Picasso poi gli ha dato questa rilevanza importante, ma non solo, lui è stato importante per aver coperto tutte le guerre, soprattutto negli anni 50-60. Quindi è veramente una donazione che ha un valore inestimabile e sono particolarmente felice di poter curare questa mostra e di dare lustro e un rilievo internazionale all'evento. Adesso l'auspicio è che l'intera collezione di proprietà del Comune di Camaiore possa trovare un'adeguata collocazione permanente in modo da divenire punto di riferimento per i fotografi di tutto il mondo.